Uno studente che deve vivere a Padova, minimo 200-300 euro di affitto, un altro centinaio di euro per le spese di vitto e come spese universitarie si arriva fino a quasi 2000 euro diretta. Una spesa, siamo un investimento e investire su di noi in tempo di crisi, se rendiamo conto che non è facile. Alvise Montanari è al quarto anno di medicina, è originario di Valdo Biadene, vive a Padova per ragioni di studio. Il rappresentante degli studenti fa parte della Fondazione Foresta e ha sposato il progetto Save the Student. Ci racconta che la crisi si fa sentire anche nel mondo universitario. Molte famiglie non ce la fanno a mantenere i figli, tanti lasciano, altri diventano studenti lavoratori. Tra dei lavoretti part-time che permettono allo studente di, se non mantenersi, di gravare di meno sulla famiglia, mantenendo comunque una buona percentuale di tempo per lo studio. La Fondazione si propone come centro di coordinamento nell'offrire la disponibilità dei giovani, in particolare quelli più meritevoli, bisognosi, che rischiano di abbandonare gli studi, si offrono agli esercenti per lavori part-time, per esempio nel fine settimana. La Fondazione del Professor Foresta ha pure chiesto al Comune di Padova di azzerare l'Imo ai proprietari di immobili disposti a dare appartamenti incomodato d'uso gratuito agli studenti. Noi abbiamo chiesto ai proprietari di case sfitte di dare incomodato d'uso per uno o due anni l'appartamento alla Fondazione e per incentivare i proprietari a fare questo passaggio abbiamo chiesto al Comune che gli aiuti nel pagamento dell'Imo.